Salve a tutti. È stato pubblicato il 25 maggio in gazzetta ufficiale il decreto sostegni bis, il quale tra le altre novità che ha introdotto nel mondo della scuola ha previsto una procedura straordinaria di assunzioni per l'anno scolastico 2021-2022, addirittura attingendo dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Il decreto legge dell'articolo 59 prevede in particolare che sui posti che residueranno dopo le operazioni di immissione in ruolo dai canali ordinari, quindi dalle graduatorie del concorso ordinario e straordinario e dalle graduatorie ad esaurimento, questi posti verranno conferiti ai docenti inseriti nella prima fascia delle GPS. In particolare, il decreto prevede quali requisiti? L'essere inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali ed esaurimento sul posto comune di sostegno ed aver prestato almeno tre anni scolastici di servizio anche non continuativi negli ultimi dieci anni. Una volta individuati i docenti eventi titolo, la procedura prevede il conferimento di un contratto a tempo determinato di durata annuale, durante il quale verrà svolto il periodo di formazione, superato il quale si accederà ad una prova finale selettiva. In sostanza, una volta superato il periodo di formazione, il docente verrà sottoposto ad una sorta di esame finale giudicato da una commissione e se giudicato idoneo verrà stipulato in suo favore un contratto a tempo indeterminato, quindi verrà immesso in ruolo. Il decreto legge prevede che il mancato superamento dell'anno di prova consentirà la ripetizione del periodo di prova stesso, ma il mancato superamento della fase selettiva finale, del colloquio finale, determinerà la decadenza dalla procedura e quindi l'impossibilità di instaurare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa procedura è di particolare interesse perché tra l'altro rappresenta una sorta di scialuppa di salvataggio per i diplomati magistrali che man mano che vengono portate a decisione le cause innanzi al giudice amministrativo e giudice ordinario stanno vedendo arrivare i provvedimenti di dependamento dalle CAE. Sappiamo che l'ordinanza 60-2020 sull'istituzione delle GPS consentiva anche ai diplomati magistrali messi in ruolo con riserva di presentare domanda di inserimento in prima fascia e inserimento che sarebbe diventato effettivo e diventerebbe effettivo non appena vengono i docenti estromessi dalle graduatorie ad esaurimento e quindi revocati contratti a tempo indeterminato riespandendosi sostanzialmente l'inserimento a pieno titolo nelle GPS. Quindi questi docenti potrebbero beneficiare della procedura straordinaria di assunzioni previste dal decreto sostegni bis e quindi essere reclutati dalla prima fascia delle GPS. Vedremo se verranno introdotte delle modifiche in sede di conversione del decreto legge. Continuate a seguire per nuovi aggiornamenti il sito La Tecnica della Scuola, il canale YouTube e i canali social. Arrivederci a tutti.